Questa è l'interfaccia di Sketchometry, un software di geometria dinamica particolarmente adatto per strumenti touchscreen, tablet e LIM in particolare. Incominciamo con uno sketch molto semplice. Vediamo come si può costruire un segmento facendo alcune osservazioni. Allora, incominciamo a disegnare gli estremi. Quindi, cliccando, anzi toccando sull'iPad, il piano di lavoro. Ecco il punto A ed ecco il punto B. Per costruire il segmento si potrebbe pensare che in questa casella costruzioni potremmo trovare indicazioni precise come accade solitamente nei software di geometria dinamica. E invece osserviamo che possiamo solamente attivarla e disattivarla. Attiviamola e proviamo a disegnare nel vero senso della parola col dito il segmento. Partiamo dal punto A e raggiungiamo il punto B. Ecco il segmento. Lo abbiamo disegnato. È una cosa molto semplice. Ovviamente il segmento, attivando la funzione drag, può essere spostato o meglio traslato, ruotato, allungato, accorciato, come in tutti i software di geometria dinamica. Disattivo la funzione drag e riprovo a costruire un segmento. Osservo che partendo da C e non fermandomi esattamente sul punto D, ma superandolo seppur di poco, il segmento scappa via e diventa lungo, lungo, lungo. Esce dallo schermo. Diventa una semiretta. Analogamente, se disegno altri due punti e parto un po' prima del punto E, mi fermo un po' dopo il punto F, ottengo una retta. Questi fatti hanno un significato molto importante perché fanno capire che se non sto molto attento a considerare i punti A, B, C, D ed E, F come estremi del segmento, in realtà non disegno un segmento, ma qualcosa di molto più lungo e strano, una retta. Quindi, forse, il segmento A, B è proprio una parte di qualcosa di più completo, cioè è una parte di retta.